L'idea del progetto personaggio orbita intorno a una riflessione sul ritratto. Abbiamo chiesto ai lettori di raccontarci un personaggio a scelta. Di fare un ritratto snello di 450 parole. Non c'erano altre regole. L'intento non è quello di rendere giustizia alla complessità del personaggio. E se in questo caso la figura è quella del personaggio, lo sfondo allora è il lettore, il suo mondo, il suo perché. Personaggio, persona, profilo, la traccia, la linea, la prospettiva, punto di vista, l'affetto. Ecco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS